La legge della senatrice Pignedoli sull'educazione al valore del cibio amplia ciò che è già contenuto nel disegno di legge della buona scuola e aggiunge valore a questo perché crediamo davvero che ciascun ragazzo e ragazza debba avere innanzitutto la consapevolezza della necessità di uno stile di vita sano. E' importante educare i ragazzi e le ragazze alla lotta all'obesità ma altrettanto all'anoressia e poi una conoscenza consapevole del valore delle biodiversità e della origine e della stagionalità di ciò che si consuma. Altro tema fondamentale che è contenuto nel testo di legge è la lotta allo spreco. Quindi crediamo davvero di dover incardinare presto in commissione istruzione questo testo di legge e dare così gambe ad una buona scuola.